Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Bologna, siamo qui da Torreffazione Caffelelli a Bologna, dove ho la possibilità e la fortuna di lavorare e di fare e di studiare oltre che di lavorare. E avevo il piacere di invitarvi a bere un caffè assieme, un espresso. Andiamo a preparare uno specialty, coffee dall'Honduras, uno dei miei caffè in assoluto preferiti, tra quelli che abbiamo, mi piace molto ed è stato uno dei miei primi contatti nel mondo specialty, avendo la possibilità anche di conoscere direttamente il produttore Arnold Paz. Veramente molto molto particolare. Ho iniziato a fare questo lavoro proprio perché il caffè mi ha colpito ed entusiasmato. Ho avuto, dopo un primo incontro con il caffè, grazie alla scuola alberghiera, che ho frequentato a Castel San Pietro Terme, diplomandomi in sala bar, ho avuto la possibilità, grazie a un ragazzo, un mio carissimo amico tutt'oggi, di conoscere i campionati baristi-caffetteria. E proprio quei campionati hanno aperto in me una voglia, la voglia di sapere, la voglia di imparare cose nuove in questo fantastico mondo. Dopo diversi anni in cui ho frequentato i bar da barista e da consumatore, ho avuto la fortuna di approdare qui, in Torrefazione Caffelelli, fortunatamente a Bologna, nella mia città, e di poter continuare questo meraviglioso percorso di studio, non solo nel bar, ma anche in Torrefazione e fortunatamente nella mia città. Questo mi ha permesso di andare tutti i giorni a lavorare molto più felice, contento e di capire che non si finisce mai di imparare. Per cui, ragazzi, vi invito a tutti a bere un buon espresso di qualità e di fare tanti corsi di formazione e di divertirvi in questo mondo che ci offrirà sempre qualcosa da imparare di nuovo. Buon espresso a tutti! Ciao!